Grazie a tutti. Non perché io sono bravo, ma perché è la parola di Dio. Amen? Gloria a Gesù. Allora, prima di parlare però della parola vi do qualche comunicazione. Ricordo che domenica prossima, 17, il culto lo facciamo di mattina alle ore 10, perché il pomeriggio sarò nella chiesa di Campobello di Licata. Non soltanto io, ma verrete alcuni di voi. Chi vuole venire si può aggiungere. La chiesa è piccolina lì, comunque casomai stiamo in piedi, non ci sono problemi. Quindi chi vuole venire, poi il pomeriggio lì è alle 18 e 45, alle 7 meno un quarto. Ok, poi ancora voglio ricordare alcuni appuntamenti. Il 21 aprile avremo il pastore Remo Cristallo, il 23 ci sarà il concerto dei Leviti, poi il primo maggio faremo agape con culto. E poi ancora, mercoledì prossimo avremo lo studio biblico, non mancate, ultimamente siete tanti che mancate, non snobbate il mercoledì. Perché la domenica non è insegnamento, è la parola così di edificazione, ma il mercoledì c'è l'insegnamento vero e proprio, lo studio biblico. Si cresce con gli studi biblici. A proposito di questo, cominciando a maggio, poi stabiliremo ancora la data, come ogni anno faremo un corso battesimale, al quale possono partecipare, non so che si battezzerà, però io lo voglio fare. Quindi poi ci accorderemo chi è interessato a fare il corso battesimale, non significa assolutamente battesimo, il corso porta verso il battesimo, non significa assolutamente battesimo, perché per potersi battezzare bisogna accordarsi in due. Il battezzando è chi battezza, chi battezza per vedere se si è pronti e il battezzando perché deve avere questo desiderio, altrimenti non serve a niente. Quindi a maggio faremo questo corso battesimale di circa due mesi, poi stabiliremo il giorno e l'ora. L'anno scorso abbiamo fatto, ricordate, Anna Maria, Pietro, Angela, l'abbiamo fatto, se vi ricordate, subito dopo il culto del mercoledì. E' vero? Lo facevamo, rimanevate qui, dovevamo fare un'ora e poi mi tenevano qui due ore, due ore e mezzo, perché erano molto delle spugne. A me mi invitavano a nozze. Quindi chi vuole può partecipare, non soltanto i nuovi, ma anche coloro che sono già battezzati. Se volete fare questo corso, è un corso molto importante, perché è di edificazione e di insegnamento sugli elementi dottrinali di base della nostra fede. Poi il 24 luglio avremo i battesimi, sarà una domenica, già a mio genero si è prenotato le ferie per scendere, che si battezzerà, quindi poi vedremo che si dovrà battezzare ancora. Ok, allora, domenica prossima culto alle? Di sera? Di mattina, va bene? No, il 22 non c'entra niente, il 22 è ancora... ho capito. Allora, stasera voglio parlarvi di territori da conquistare. Sapete, certe volte io vedo nella Chiesa, ma non soltanto a noi un po' generalizzato il discorso, però ci interessa a noi questa sera, questo discorso, che la vita del cristiano sembra per certuni che il culmine sia la salvezza. Quando si è salvati, ah, adesso siamo salvati, e sembra che sia un arrivo, mentre dobbiamo comprendere che la salvezza è il punto di partenza della vita del cristiano. Perché prima vivevamo senza Cristo, quando siamo salvati, e per essere salvati bisogna ricevere Gesù nella propria vita e nascere di nuovo, come disse Gesù a Nicodemo, allora inizia il cammino. Perché dico questo? Perché nel cammino del cristiano bisogna, non è una passeggiata, chiunque vi dice che essere cristiani è una passeggiata, non credetelo. Ma è un cammino glorioso allo stesso tempo. Io ricordo, tanti anni fa, all'inizio della mia fede, mi trovavo a pregare assieme ad altri, e il Signore mi dite una visione, ero proprio nei primi mesi, e mi fece vedere una strada dritta e luminosa, ma luminosa, una luce, una strada proprio... la strada era fatta di luce, e capivo che era il mio cammino che dovevo fare, no? E vedevo che all'inizio era bella larga questa strada, si camminava molto bene, e più andava avanti, più saliva, fino ad arrivare, vedevo lontano, 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 vedevo proprio la strada piccola così, e ripida così. E lui disse, grazie Signore, so ciò che mi aspetta. Ho capito che il Signore mi diceva, guarda che il cammino è nella luce, è glorioso, ma è in questo mondo. Vedete, da una parte della strada e dell'altra non c'era la strada di Dio, ma c'era il mondo. E noi camminiamo in questa via, ma in questo mondo. Quindi bisogna che il cristiano, durante il cammino della propria vita di fede, lotti, faccia guerra spirituale, resista nei momenti in cui c'è da resistere, non si arrenda mai. Il cristiano semplicemente si deve arrendere davanti al Signore, punto. Il nemico, noi dobbiamo combatterlo, la Bibbia dice che Gesù ce l'ha dato sotto i nostri piedi, calpesteremo serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico e nulla ci farà del male. Questo dice la Bibbia. Ma è pure vero che è un cammino fatto anche di difficoltà, tante volte. Persone che non ti capiscono. Persone che ti criticano. Persone a volte che ti giudicano. Ma voi pensate che questo sia anomalo, anormale o normale? Certo, all'inizio della fede può sembrare quasi scoraggiante. Dice come? Adesso che ho incontrato il Signore tutti dovrebbero essere contenti, che adesso finalmente sono nella luce, finalmente ho conosciuto Gesù e trovo frecciati da una parte. Magari la famiglia, prima facevi chissà cosa volevi, andavi, ti ubriacavi o ti drogavi o facevi tante altre cose strane e magari ci passavano sopra tranquillamente e nessuno diceva niente in famiglia. Poi arrivi a diventare un cristiano e tutti dicono ma ti nisciusenzo? E perché non hanno incontrato ancora Gesù? Quindi gli ostacoli nella vita ci sono e bisogna stare fermi durante le prove, perché bisogna lottare contro queste prove, perché dobbiamo arrivare, abbiamo un traguardo da raggiungere. Abbiamo detto con la vita della fede, quando siamo salvati, si inizia il calmino. Ma c'è anche un traguardo da raggiungere. Il nostro traguardo sarà, può avvenire in due modi. Quando ce ne andiamo da qui, perché il Signore ci chiama, oppure perché Gesù ritorna. E siamo ancora qui. Non lo sappiamo noi questo. Quindi, cioè, significa dobbiamo resistere sino alla fine. La Bibbia dice che chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Difatti la Bibbia parla di una salvezza che ha a che vedere col passato, col presente e col futuro. La Bibbia tante volte dice che noi siamo stati salvati, a volte dice che siamo salvati, a volte dice che chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Quindi la salvezza implica, prima di ogni cosa è il passato, il nostro passato è la croce di Gesù, siamo stati salvati alla croce. Ma implica pure il presente, significa l'accettazione di questa salvezza che viene dalla croce. Ma implica pure il futuro, significa dobbiamo perseverare sino alla fine. Perché la salvezza, cammin facendo, si può perdere. E ho visto tante persone, non dico che hanno perduto la salvezza, ma che si sono smarriti, non hanno saputo resistere, sono venuti meno, si sono affievoliti, si sono sviati, sono usciti fuori di nuovo dalla via della luce e camminano per vie di questo mondo. Dove c'è, ascoltatemi bene, morte. Perché l'unica via nella quale c'è vita è Gesù Cristo. Allora, ho preso una scrittura che ci parla un po' di queste cose, che è nell'Antico Testamento, in numeri, capitolo 33, dal verso 50, leggiamo, e dice così. Qui il contesto è questo. Mosè prima, sapete, quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, rimase 40 anni nel deserto, Mosè era con il popolo, ma Mosè non è potuto entrare nella terra promessa, ovvero la terra di Canaan, non è entrato, e prima di entrare proprio nella terra di Canaan, lui ha questa parola da parte di Dio per Israele, per il popolo, che deve entrare nella terra di Canaan. Qualcuno dice, come mai Dio non ha fatto entrare Mosè nella terra di Canaan? C'è un aspetto di disubbidienza da parte di Mosè, ma soprattutto, sapete, chi ha fatto entrare il popolo nella terra di Canaan, nella terra promessa, è stata Josue. E Josue significa Gesù, salva. È lo stesso nome, Yashua, in ebraico, che significa Dio salva. Quindi Josue è Yashua, Gesù, il nostro Gesù è Yashua. perché allora è Yashua che ha fatto entrare il popolo nella terra promessa? Perché Mosè rappresentava la legge e la legge non ci fa entrare nella terra promessa. Yashua significa, rappresenta invece la grazia di Dio, il Dio che salva, e chi fa entrare nella terra promessa è Gesù, Cristo, il nostro Signore. Amen? Gloria a Gesù. Quindi leggiamo insieme. Prima di entrare nella terra di Canaan, Mosè ebbe questa parola da parte di Dio per il popolo. Poi l'Eterno parlò a Mosè nelle pianure di Moab presso al Giordano sulla sfondo postagerico dicendo parla ai figli di Israele di loro quando passerete il Giordano per entrare nel paese di Canaan scaccerete davanti a voi tutti gli abitanti del paese distruggerete tutte le loro immagini distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro alti luoghi prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete perché io vi ho dato il paese in proprietà dividerete il paese a sorte secondo le vostre famiglie alle più grandi darete una porzione maggiore alle più piccole darete una porzione minore ognuno avrà quello che gli sarà toccato a sorte le spartizioni verranno fatte in base alle tribù dei vostri padri ma se non scaccerete davanti a voi gli abitanti del paese quelli di loro da voi lasciati saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi molesteranno nel paese nel paese che abiterete e avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro ora questa scrittura vedete ci parla di di cana di possesso di autorità ma ci parla anche di modo di vivere di schiacciare di non lasciare ci dice pure queste cose è vero che sono molto importanti ed è una figura della vita della nostra fede quando entriamo nel regno di Dio perché canaan è figura del regno di Dio ma canaan è figura pure della nuova nascita siamo noi nuovi nel territorio di Dio e poiché noi siamo nati di nuovo canaan per noi è la nuova nascita per noi è ancora il regno di Dio per noi è ancora come dobbiamo vivere il regno di Dio in canaan ok questo significa in realtà la Bibbia dice che in questo passo della scrittura che dobbiamo prendere possesso del paese cos'è il paese innanzitutto il paese è composto da un territorio il paese di Favara per esempio ha un territorio vero dove ha dei limiti il paese è composto da un territorio dove abitano delle persone noi abbiamo fratelli miei un territorio interiore ed un territorio esteriore da possedere da conquistare significa che abbiamo lotte di interiori lotte di dentro e lotte di fuori di fuori ho appena un po' accennato ma abbiamo lotte interiori tante volte conflitti interiori che dobbiamo affrontare con i quali dobbiamo lottare e là dobbiamo anche vincere sottomettendoli all'autorità delle nuove leggi che sono state scritte nei nostri cuori che è la parola di Dio prenderete possesso di questo paese dominarlo significa perché Dio ci dà in dominio il paese significa governarlo perché come si domina governando con le leggi di Dio Dio ha messo delle leggi nei nostri cuori la Bibbia dice che sono state scritte delle leggi nei nostri cuori lui ha tolto il cuore di pietra dice la scrittura e ci ha dato un cuore di carne vedete nel cuore di pietra può essere anche un cuore legalistico anche religioso dove ci sono scritti i dieci comandamenti che sono buoni intendiamoci ma sono fatti di pietra non battono ma il cuore di carne è quando Dio scrive le sue leggi per mezzo dello spirito santo nei nostri cuori e noi abbiamo ricevuto da parte del Signore un cuore che pulsa di carne e quindi dobbiamo lasciare agire dobbiamo permettere a Dio che col suo dito lo spirito non più su pietra ma sul cuore scriva le sue leggi affinché noi le possiamo mettere in pratica nel territorio che Dio ci ha dato dove dobbiamo vivere e conquistare dobbiamo governare con le leggi di Dio le leggi di Dio devono vedete tutti noi siamo siamo stati governati e abbiamo governato con delle leggi che non erano quelle di Dio e a volte tuttora lo facciamo magari sono leggi demoniache perché tutto ciò che non è da Dio è dal demone e noi siamo stati governati per certi versi istruiti formati su determinate leggi che non erano le leggi di Dio e che ci hanno formato male e quindi noi con la nuova nascita noi dobbiamo imparare a sostituire le leggi del passato con le leggi del nuovo regno che è stato messo dentro di noi il regno di Dio amén sostituiamo queste leggi perché se non le sostituiamo abbiamo problemi sapete le persone che si allontanano dalla fede dopo aver sperimentato la nuova nascita è perché in realtà permettono di nuovo alle vecchie leggi di dominare nelle loro vite e questo è un grave problema per le chiese o per il credente la Bibbia dice qui che noi il popolo di Israele quando entrava nella terra la terra promessa doveva combattere doveva schiacciare vero gli abitanti del paese noi non dobbiamo schiacciare nessuno dal punto di vista fisico noi dobbiamo amare le persone ok però è pure vero che questo ci dice ci indica qualcosa cosa dobbiamo schiacciare contro chi dobbiamo lottare gli abitanti del paese gli abitanti del paese ci parla della cultura di questo mondo ci parla ancora della mentalità delle mode che ci circondano dei desideri illegittimi concupiscenze dei pregiudizi e vedete la nostra società è costellata di queste cose la nostra società vi dico di più è formata in questo modo vedete a volte c'è una cultura non so se ve ne accorgete ma penso di sì c'è una cultura che tutto contempla meno che Dio persone anche intelligenti persone anche che sono proprio di cultura di una certa statura elevati ma hanno una filosofia incredibile ma Dio è messo fuori dalla loro cultura e io vi dico fratelli ogni tipo di cultura che mette fuori Dio non è più la nostra cultura non deve essere più la nostra cultura la nostra formazione la nostra cultura deve venire dalla parola di Dio da qui qui ci dobbiamo formare qui ci dobbiamo istruire qui dobbiamo crescere qui dobbiamo imparare a sperimentare la trasformazione della nostra mente qui dobbiamo imparare a cambiare mentalità qui dobbiamo imparare a capire quali sono le mode sbagliate i desideri illegittimi i pregiudizi noi la Bibbia dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi e libertà da queste cose da che cosa siamo liberi siamo liberi perché facciamo quello che vogliamo no siamo liberi perché non condividiamo più il modo di vivere di questo mondo delle persone che attraverso la filosofia distorcono i pensieri e giustificano tutto giustificano ogni cosa che è contro la volontà di Dio ieri sera parlavamo con una sorella e diceva lei diceva parlavo con una mia amica e mi dicevo sai parlando per adesso un tema molto caldo questo delle unioni civili dell'omosessualità dei matrimoni tra gay eccetera eccetera e gli diceva guarda Dio dice Dio dice nella sua parola Dio dice che lui ha in abominio queste cose non si chiama che non ama quelle persone ma vuole che cambiano e quello gli diceva se il tuo Dio dice questo non sono d'accordo con Dio la cultura capite la mentalità si fanno Dio a se stessi e questo è un problema un problema nella nostra società ma è un problema che tende a scardinare anche i nostri valori i nostri principi capite e noi dobbiamo stare saldi nella parola di Dio la Bibbia dice in Romani 12.2 non vi conformate non prendete significa la forma perché l'abbiamo lasciata questo tipo di forma quando abbiamo creduto in Gesù l'abbiamo lasciata non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona accettevole e perfetta volontà di Dio la volontà di Dio è buona accettevole perfetta ma noi dobbiamo conoscerla e per conoscerla dobbiamo capire che la forma di questo mondo lo stampo culturale lo stampo sociale lo stampo dei desideri lo stampo dei pregiudizi dobbiamo lasciarlo perché se non lo lasciamo ci condizionerà saranno quei pungoli adesso poi arriveremo pure a questo la Bibbia dice che non ci dobbiamo conformare a questo mondo ma dobbiamo essere anzi trasformati il rinnovamento della mente affinché conosciamo attraverso il rinnovamento della mente quale sia la volontà di Dio Pietro arriva a dire prima Pietro 1.14 al 19 dice così come figli ubbidienti anche lui dice non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato che significa concupiscenze per gli addetti lavori forse lo sapete ma tanti non sanno concupiscenza significa desideri illegittimi perché ci sono desideri legittimi e ci sono desideri illegittimi se uno pensa di stare con sua moglie è un desiderio illegittimo chi non è sposato e pensa di stare insieme è un desiderio illegittimo concupiscenze dare sfogo ai pensieri corrotti della mente come figli ubbidienti ma poiché noi siamo figli dice la scrittura non prendete la forma non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza non conoscevate la parola ma come colui che vi ha chiamati è santo voi pure siate santi in tutta la vostra condotta voi che sta scritto siate santi perché io sono santo e se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio il tempo del pellegrinaggio è il cammino della nostra fede abbiamo iniziato quando abbiamo creduto un giorno arriveremo al traguardo tutto il tempo sapendo che non con cose corruttibili come argento oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia e la Bibbia vedete dice pure di stare attento affinché noi possiamo camminare coltivare i pensieri giusti della parola di Dio di avere pure le sane compagnie qualcuno diceva una volta un proverbio dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei ma anche la Bibbia ne parla la Bibbia ne parla nel Salmo 1 ma qui in Prima Corinthians 15.23 guardate cosa dice non vi ingannate perché a volte anche credenti si ingannano pensando vabbè che ci fai io sto con gli altri non mi interessa l'importante che cerco di comportarmi bene e magari si sta con compagnie sbagliate che non hanno timore di Dio che non hanno per niente Dio anzi lo bestemmiano a volte e noi ci stiamo lì accanto magari guardate cosa dice non vi ingannate è un inganno questo quando si pensa vabbè io però mi comporto bene no non vi ingannate le cattive compagnie corrompono i buoni costumi e qui c'è la Bibbia le cattive compagnie corrompono i buoni costumi non significa che non dobbiamo avere amici di fuori non sto dicendo questo ma selezioniamoli quelli che commettono io ricordo quando ero ragazzo prima della fede ragazzo parlo giovane avevo delle compagnie avevo compagnie buone ma compagnie pure cattive avevo compagnie che erano mafiosi avevo compagnie pure che qualcuno si si pungeva avevo compagnie nella gioventù vedete queste cose non si valutano bene io non avevo la luce della parola e ringrazio Dio che non sono andato a finire in carcere qualche volta quando hanno combinato io ero un bravo ragazzo tra virgolette avevo certi principi certi valori ce li avevo nel cuore mio ma camminavo con certe persone alcune buone alcune cattive e a volte ho rischiato di essere fermato dalla polizia di notte ed essere portato in carcere perché non per me ma i compagni perché le amicizie le cattive i cattivi come dice così le cattive compagnie corrompono i buoni costumi e io ero tentato anche a imitare perché poi ti fanno sentire meno se tu cammini con quelli e dice ma che c'è di male hai vergogna ti dicono oppure hai paura oppure che c'è di male poi dove sono andate a finire queste persone qualcuno è andato a finire in carcere qualcuno è morto non ci sono più perché non hanno cambiato vita eppure vi dico la verità io non ero avevo dei principi dei sani valori principi non cristiani ma per certi versi credevo a certi valori vedete le cattive compagnie selezionate i compagni e dico ai genitori anche per i propri figli quando sono in età adolescenziale in particolar modo vegliate sui figli e state attenti alle loro compagnie in un modo discreto magari però bisogna stare attenti perché a rimanere imbrigliati in queste cose ci vuole men che niente ancora la scrittura dice guardate abbiamo parlato di mentalità di mode a volte si tenta ad imitare ciò che vediamo in tv che si vede attraverso i mass media ma noi dobbiamo scegliere dobbiamo valutare dobbiamo selezionare ieri sera parlando con la sorella diceva guarda si parlava pure di ciao Darwin no lo cito perché sono cose che ho detto recentemente ieri sera ciao Darwin e allora diceva sai all'inizio questo giamno Darwin lo vedevo c'è una bambina pure io è arrivato a un certo punto vedendo quello che fanno perché iniziano gradualmente poi verso la fine si scatenano nudismo volgarità allusioni di ogni tipo di ogni maniera di ogni maniera dicevi no io ho vietato a mia figlia di vedere ciao Darwin eh digli ciao a Darwin ecco abbiamo detto ciao a Darwin chiuso e basta dobbiamo sapere selezionare capite perché a volte noi siamo faciloni nelle cose anche nel vedere le cose nel discernere noi abbiamo noi abbiamo ricevuto uno spirito che si chiama spirito santo che ci fa discernere il bene dal male e ci fa prendere posizione ci dice guarda questo no e ci dice quello sì qualcuno può dire e allora ci dobbiamo rinchiudere in casa non dobbiamo più vedere nessuna cosa vedete quello che è buono cose buone ci sono pure non vedete quello che è cattivo voi conoscete il bene e il male ancora guardate la Bibbia dice pure al popolo di Israele Dio dice a Mosè per dirlo a Giosuè affinché lo dica al popolo distruggerete quando entrate nella terra di Canaan signora quando diventate credenti distruggerete tutte le loro immagini distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro alti luoghi questo ci parla di falsi valori che il mondo considera importanti e che non sono niente sono falsi valori come l'idolatria l'idolatria ha un falso valore idolatria significa adorare ciò che non è Dio idolo le feste mondane e quando parlo di feste mondane non parlo di festicciole che si possono organizzare per rallegrarsi un po' ma quando sfociano in abusi di alcol di licenziosità e di cose varie quando ci si stona per non capire più nulla queste sono feste mondane feste mondane tradizioni idolatriche religiose non servono a niente sono falsi valori e tante persone specialmente nella nostra nazione sono attaccati a questi valori che non hanno un fondamento biblico che non hanno un fondamento di verità e che sono falsi valori che vengono viste sotto una luce diversa e li fanno diventare veri valori ma in realtà se li confrontate con la verità sono falsi 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 ripeterei mille volte falsi valori che non servono a niente questi erano i popoli pagani che facevano queste cose avete visto? che Dio stava schiacciando davanti alla chiesa davanti a Israele davanti al popolo davanti al credente dice tu li devi schiacciare queste cose non ti fare come loro li devi combattere devi lottare queste cose contro di loro devi schiacciarle devi mandarli via non tollerarli non tollerarli non significa intolleranza significa intolleranza interiore capite? non si parla di fare guerra alle persone ma di te in te non ci devono essere queste cose ancora ci sono idolatria e ancora fratelli miei non è solo religiosità ma molto più spesso anche oggi i divi dello spettacolo dello sport tutto ciò che diventa fanatismo per qualcuno un oggetto oppure una persona quello è il mio idolo avete sentito queste cose? quel calciatore messi è il mio idolo ci manca solo che gli fanno una statuina nella loro cameretta e la baciano e magari ci accendono un gerone oppure la foto la foto è tutto costellato di foto oppure un idolo del rock dell'hard rock del metal di questo quell'altro fratelli miei sono idoli e il credente deve valutare queste cose con la parola e non soltanto le deve valutare ma le deve la Bibbia dice schiacciare cioè non devono fare parte significa della tua vita questo è cristianesimo altrimenti si entra nel compromesso e qui questa scrittura avvisa che c'è un pericolo di compromesso quando dice se non scaccerete queste cose davanti a voi se non scaccerete davanti a voi gli abitanti del paese quelli di loro di voi che lascerete che tollerate ma questa cosa ci fa? niente quello cosa ci fa? niente e quell'altro è che c'è l'importante che mi interessa questo è tollerare tutto ciò che Dio ci dice di schiacciare e allora la tolleranza guardate la tolleranza porta ovvero il compromesso porta a diventare scusate dico questa parola ma è biblica tiepidi sapete perché le persone diventano tiepidi perché si compromettono quando una persona prima è fervente ama il Signore si consacra fa la vita ecclesiale cerca i compagni di fede e poi piano piano viene attratto da quella andiamo a discoteca e poi l'altro andiamo ci facciamo un bel giretto magari andiamo a guittare qualche ragazzina guittare in greco no? guittare qualche ragazzino ragazzina guittamo qualche ragazzino oggi c'è pure questo una volta nei miei tempi non c'era ma c'è pure questo andiamo a guittare andiamo a fare i bulli andiamo a fare queste cose e ci si lascia trascinare vedete la persona la fede si affievolisce e si diventa tiepidi e il passo successivo della tiepidezza è quello di allontanarsi completamente dalla fede la tiepidezza in Apocalisse dice cosa come Dio vede la tiepidezza anche ieri sera parlavamo di questo Apocalisse 3.14 17 al verso 16 dice così così poiché sei tiepido Dio dice alla chiesa di Laodicea che è l'ultima delle sette chiese dell'Apocalisse elencate che avevano un problema proprio del genere che rappresenta un po' tra virgolette anche l'ultimo periodo della chiesa e vedete dice che c'è un pericolo enorme oggi il pericolo della tiepidezza perché non si distingue più ciò che è bene con ciò che è male si cammina a braccetto di qua e di là e si è cristiani compromessi significa qualcuno può dire ma dobbiamo essere radicali come cristiani sì radicali non significa che non dobbiamo fare guerra contro le persone noi dobbiamo amare le persone ma dobbiamo essere radicali nei nostri valori nei nostri principi nelle nostre lotte interiori dobbiamo essere radicali lì dobbiamo essere fermi lì dobbiamo resistere lì dobbiamo lottare perché se vinciamo di dentro vinceremo anche di fuori il primo combattimento non è contro e fuori quando ti dicono andiamo lì facciamo questo e tu sai che è sbagliato è perché tu non combatti interiormente non ti metti davanti a Dio e dici signore io sono tentato e allora ti metti a lottare a guerreggiare fin quando vinci e poi dici alle persone che ti fanno delle proposte cattivi compagni gli dici no io queste cose non le faccio io con voi in questi ambienti non ci vengo ah e tu che sei che diventaste uomo di chiesa sì e sono orgoglioso di essere un uomo di chiesa perché sono un uomo di Gesù vedete le lotte sono dentro prima di ogni cosa prima di essere fuori cristiani tiepidi così poiché sei tiepido non sei cioè né freddo né caldo io sto per vomitarti dalla mia bocca mamma che parola Dio che dice ai tiepidi state attenti che se rimanete in questa condizione vi rimetto e dice ancora che la tiepidezza ovvero il compromesso produce delle cose dice così se tu tolleri queste cose li lasci in mezzo a te saranno per voi come spine negli occhi avete mai avuto qualche spine nell'occhio mentre magari saldate o qualcosa che arriva nell'occhio che fastidio vero meno male che c'è l'oculista che la toglie poi ma pensate se non si può togliere San Norba significa vero non si vede l'occhio che lacrima non vedete più bene quindi spine negli occhi producono non solo dolore che produce dolore le spine negli occhi ma impediscono di vedere bene e coloro che entrano in compromesso non distinguono più bene ciò che li circonda nell'ambito della fede per questa volta io è capitato qualche volta con qualche giovane in particolar modo di dire fratello mio ragazzo senti questa cosa non è così allora no è che c'è di male è che c'è di qua è che c'è di... non lo vedono non capiscono certi valori spirituali perché ancora magari sono giovani ma i giovani dovrebbero avere fiducia in coloro che sono le autorità della chiesa altrimenti dove si va? ognuno diceva il pastore dice così per me non è così che bella chiesa che siamo dico ognuno fa come vuole non si chiede che deve essere il pastore non dittatore ma il pastore deve indicare il bene e il male non si chiede che azzeccherà sempre tutto ma questa è la direzione tu la pensi così e che mi interessa io la penso diversamente la Bibbia dice di avere un pari sentimento vero? altrimenti dove si va a sbattere se non si cammina tutti insieme col stesso modo di pensare diceva la scrittura e di fare spina gli occhi e dice così pure saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi i pungoli nei fianchi avete visto mai qualche volta a Venerino quando vede un pizzico dal re come risantate quello non è niente in proporzione al pungolo pungoli a fianchi i pungoli a fianchi procurano dolore e impediscono di camminare bene e spiritualmente parlando ci impediscono di camminare bene per quanto riguarda la nostra fede ora io vi porto un esempio che ho vissuto in prima persona riguardo al pungolo nel fianco da questa parte io tanti un po' di anni fa grazie a Dio è da circa 7-8 anni che non ci soffro più però prima ogni anno andavo a finire all'ospedale perché avevo dei calcoletti rinali impedivano la prima volta che mi è venuta questa cosa ricordo che avevamo ospite un pastore in chiesa eravamo agli inizi quindi parliamo di circa 16-7 anni fa 18 giù di lì e alla prima volta ricordo che mi svegliai di notte e avevo un senso di malessere dico ma che cosa forse devo andare in bagno avevo nausea vado in bagno passa niente andavo avanti avevo pure l'affanno arrivato a un certo punto mi viene un dolore qui da morire sapete da morire io non sapevo neanche cosa fosse non sapevo cosa erano i calcoli rinali non avevo mai fatto questa esperienza non avevo neanche sentito parlare francamente di queste cose e quindi quando mi è venuto questo mi sono piegato così guardate dal dolore mi sono piegato così e non potevo più alzarmi mi hanno portato all'ospedale così così camminavo così ma un male un male un male da morire un pungolo qui che io vi ricordo quella notte pensavo dico niente è la mia ora questo ho pensato perché stavo talmente male avevo talmente dolore che ho detto dico niente signore se è la mia ora dico prendimi dico va bene così così ho detto pensavo dico sto morendo sapete letteralmente stavo morendo e così questo pungolo poi la volta successiva è successo mi succedeva una volta l'anno per diversi anni e ricordo poi dopo sapevo cos'era non mi preoccupavo mi faceva molto male però non mi preoccupavo più di tanto ma il male non è stato mai come la prima volta la prima volta è stato tremendo terribile da morire e non mi potevo alzare il pungolo come camminavo io io ricordo che mia moglie chiamò suo fratello che abitava allora era schetto abitava là vicino a noi e suo fratello e mio cugnato mi diceva andiamo all'ospedale era inverno pensate a dicembre e io sudavo come un bugicino sudavo cioè e dicevo aprite finestrini aprite finestrini e quando camminavo ti portiamo dico no andiamo piano così camminavo non potevo camminare il pungolo a fianco come si cammina pensate invece quando uno può camminare correre è vero chi ha avuto un incidente alla gamba al piede magari quando c'è la frattura mica si va piano addirittura a stampelle prima poi piano piano quindi non si cammina bene è una simbologia per dire i pungoli ai fianchi non ci fanno camminare bene nella vita della nostra fede e noi abbiamo un percorso da fare fratelli miei e dobbiamo resistere sino alla fine perché non siamo ancora arrivati dobbiamo lottare dobbiamo guerreggiare e dobbiamo conquistare territori che stanno dentro di noi e se conquistiamo i territori che stanno dentro di noi conquisteremo anche coloro che ci stanno attorno amén per concludere dice così la Bibbia che se noi non togliamo il compromesso dalla nostra vita queste cose ci molesteranno abiteremo saremo nella fede ma ci molesteranno e vivremo male per quanto siamo molestati viviamo male il compromesso del credente produce una continua molestia di dentro e di fuori il risultato può diventare la paralisi spirituale qual è la volontà di Dio invece? vogliamo concludere positivamente perché Dio ci parla per incitarci a rivedere interiormente dentro di noi come stanno le cose e a migliorarci a fare di più a lasciare tutte quelle cose che non ci fanno vedere bene tutte quelle cose che non ci fanno camminare bene perché Dio la volontà di Dio che noi siamo liberati da queste cose da questi nemici perché sono dei nemici che non vogliono che arriviamo fino alla fine tu hai cominciato un percorso nella fede Dio vuole che arrivi fino al traguardo perché la Bibbia dice colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compilimento sino a quel giorno lui vuole questo significa ma noi non è automatico noi dobbiamo avallare ciò che Dio vuole fare collaborando con lui resistendo quando c'è da resistere lottare quando c'è da lottare rimanendo fermi nella fede non entrando in compromesso quando ci vogliono portare nel compromesso dobbiamo dire semplicemente no e se abbiamo delle tentazioni andiamo al Signore che ci fortifica per resistere alle tentazioni e per rimanere fermi nella sua parola abbiamo bisogno di questo Dio vuole liberarci dai nemici che stanno dentro di noi e da quelli che stanno fuori di noi e vi dico di più se noi ci proviamo per mezzo della fede lui ci darà la vittoria amen ci siamo in piedi gloria a Gesù lui ci darà la vittoria ma tu devi fare la tua parte perché se noi non facciamo la nostra parte Dio non ci può dare la vittoria anche se lui ha preparato la vittoria per tutti noi amen hai un cammino davanti grazie a tutti